Archiviato il Ferragosto ad Arezzo si pensa già al Natale. C'è infatti la data di partenza della città di Natale, ossia il 19 novembre. L'annuncio è arrivato questa mattina tramite social Facebook ed Instagram. Nel cuore del centro storico Aretino torneranno così le baite del villaggio tirolese, la casa di Babbo Natale, il villaggio Lego, oltre alle tante attrazioni ed iniziative che ogni anno attirano migliaia e migliaia di visitatori, aretini ma anche turisti. Dal 19 novembre al 26 dicembre poi Piazza Grande ospiterà un mercato natalizio magico unico nel suo genere, quest'anno ancora più a misura di famiglie e bambini che raccoglierà espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall'Austria, con il meglio poi anche delle produzioni locali della Toscana. Massimo riservo invece per quanto riguarda le attrazioni collaterali che come ogni anno saranno svelate nelle prossime settimane e che animeranno la città sino a gennaio.